Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tales of Iron, un gioco veramente particolare, un gioco disegnato benissimo, un gioco in 2D. Che cosa succede? Noi siamo questo piccolo topolino che al momento siamo subito dopo il tutorial, anzi in realtà siamo ancora nel tutorial perché il nostro padre, che è lì seduto in alto a destra, ha deciso di dare a uno dei due figli la corona, ma è in corso un duello tra il fratello maggiore, super quotato per la vittoria finale, contro di noi il fratello Dennis che è capitano della Guardia Reale. Sembra una mera formalità, ma il gioco è curatissimo perché ha una meccanica molto Souls. In alto a sinistra vedete quell'ampolla arancione, una spremuta che praticamente possiamo bere, possiamo riempire, rifillare ogni volta che finiamo un combattimento, ogni volta che troviamo una piccola botte. Il gioco ha diverse modalità con i tasti, dove possiamo, scusate ma la bevo un po', diversi stili di combattimento anche dipendenti direttamente dall'arma che indossiamo, che equipaggiamo, dall'armatura che indossiamo. In questo caso ci sta dando il paiolo, il nostro fratello. L'ambientazione è veramente fatta bene perché è disegnata a mano e c'è questa sorta di grande combattimento tra i topi e le rane. La cosa molto bella che io ho gradito di questo combattimento è il fatto che il pubblico risulta. Che è una cazzata detta così, però... Aia, non posso fargli la scivolata, la rotolata dopo che lui mi attacca. Infatti il gioco mi ha fatto saltare, mi ha fatto salvare, scusate. Eh, non posso, non posso. Devo, devo parare e devo rispondere quando lui sta per arrivare. Questa è un'altra meccanica di... E gli ho dato una spinta adesso e gli ho fatto parecchio male. Il gioco, come dice anche il tutorial, cosa che io ovviamente non ho ascoltato minimamente, consiglia di giocare il gioco con il pad e io ovviamente uso la tastiera, il mouse, così a scopo terapeutico. Sto usando, abusando di questa parata con lo scudo in modo da poter dare un colpo di scudo all'avversario quando lui sta per attaccare in modo da rompergli l'attacco. Ora sta giocando sulla difensiva. Aia, questa è una data secca. Aia! E poi c'è la tasto alta per arrotolare e c'è anche la doppia arrotolata. Manca un colpo e ho vinto. Ce l'aveva fatta, si era dimostrato un degno erede per il regno del padre. Vi ho saltato tutto il video iniziale che era molto bello ma... perché appunto dovete scoprirvelo. Il gioco esce il 17 di settembre, non so ancora dirvi il prezzo purtroppo però sembra avere caratterizzazione finché se ne vuole. Il re è stato ucciso e le rane hanno assaltato la fortezza Cremisi dove ci troviamo noi. E questo è il il cattivone di turno. Questo è Veruca Verde, il capoguerra delle tribù delle rane e uccisore di re. Sembra essere imbattibile sembra che noi dobbiamo per forza perderla questa partita e infatti così è. Vi ho saltato il tutorial in sintesi che cosa ci spiegava? Ci spiegava che recuperando determinati oggetti c'è la possibilità di craftare di far craftare il nostro cuoco un pranzo diciamo una sorta di recupero di vita e soprattutto di craftare delle armi e comunque di averne. Questa volta il principe si destrò da un sogno pieno di sangue e rane e scoprì di non avere né una corona né un regno e nemmeno un padre. Il padre è stato ucciso in questo assalto abbiamo perso praticamente tutte le armature che avevamo preso e l'avventura inizia qui. Abbiamo la spada vedete che potete vedere le statistiche il peso che ha a una mano o meno attacchiamo col tasto sinistro la parata con questo scudo demolito con lo shift l'alta la rotolata mentre invece quando siamo in parata se premiamo la la rotella del mouse lui gira ovviamente sarà tutto molto più semplice con un pad. Questo è quello che resta del quando vi sedete sulla panchina salvate la partita c'è qualcosa qua da prendere ok perché qui c'era la botte dove si caricava la la nostra bevanda la nostra spremuta questa è una rana shift aia vai 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 fuggi 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 bevi ok così almeno lo schermo torna a colori oddio stiamo ottenendo oggetti l'acqua si salva in basso a destra vedete il simbolo cioè non mi dà proprio l'idea di un gioco con una lore tutta sua che può dare inizio comunque una serie di magari avventure di capitoli successivi perché comunque è una lore che io ho sempre amato tantissimo quella degli animali messi magari in stampo medioevo o in stampo fantascienza infatti biomutant mi è piaciuto mi ha sempre ispirato chiave delle fogne della fortezza carimisi trovata nelle fogne sblocca l'uscita delle fogne ok perfetto abbiamo preso questa perché col tasto tab abbiamo modo di vedere dove ci troviamo la mappa è stupenda guardate quanto quanto è grande noi eravamo in questa zona qui ho iniziato il gioco in questa zona qui adesso siamo nelle fogne e probabilmente dovremmo andare giù di qua ok c'è qualcosa da prendere anche qui abbiamo preso del metallo metallo che ci servirà sicuramente nel crafting di qualcosa andando avanti è stato un inizio un po' atipico questo perché ho preferito non mostrarvi proprio l'inizio inizio del gioco perché era un po' non dico noioso però c'era questa cosa molto bella del nostro servo che in modo molto educato con dei fumetti disegnati ci dava le indicazioni su cosa fare è disegnato veramente in modo meraviglioso questo gioco anche come animazioni è veramente le ho presi nel bel mezzo di un'esecuzione ma sono quasi morto adesso facciamo una doppia scivolata e beviamo la nostra magica e poi sistemiamo ahia le rane hanno il sangue verde comunque fanno di tutto in questo gioco per renderle antipatiche le rane però sono proprio brutte i topi sono carini invece ok vedete come comunica ci sta dicendo che c'è un assassino in corso di là intanto recuperiamo vediamo cosa prendiamo qua prendiamo ancora del succo che mi bevo subito ok vediamo se la lana qualcosa si succo ancora ottimo salvo qui è la sala reale sala del trono che non esiste più non paghi di avere ucciso le rane avevano distrutto anche la sala del trono lasciandosi alle spalle macerie fumanti e corpi senza vita delle vittime raggi non aveva mai visto tanta malvagità né provato una rabbia così forte sono pienamente d'accordo con te bevi 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 aia e venite giù che vi sistemo io no 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 la prima morte vabbè ripartiamo rifacciamo senza fermarci a leggere questa volta vieni vieni aia devo bere devo bere devo bere devo bere aia mamma mia mi fa malissimo sti qua bevi 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 bello che la parata non ci fa schivare tutto ma dobbiamo ingegnarci ok vieni giù vieni giù vieni giù vediamo se è qualcosa da prendere questo ok abbiamo preso altro succo non mi fai paura un arciere contro una spada quando un uomo con la spada incontra un uomo con l'arco l'uomo con l'arco vince era tosto la descrizione della pagina steam che dice combattimenti brutali mi rendo conto che è veramente tosta come cosa adesso vediamo di di batterlo poi è proprio brutale brutale perché non uso il salto dire la verità questo è un peccato provo a caricare uh gli ho fatto un bel colpo alle spalle vediamo se riesco a recuperare qualcosa no aia minchia adesso ce la faremo ce la faremo dai perché poi c'è dovrebbe esserci non lo non lo incontro molto spesso però l'armadio guarda roba che ci permette di 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 cambiarci l'abito e quindi prendere altre armature o comunque scegliere perché sono tre fondamentalmente l'armatura l'elmo divise per leggera media e divisa la divisa si media leggera e pesante e quello che ci dà in più il ovviamente è maggiore protezione al prezzo di un minore movimento scusate ma ero concentrato eccolo qua questo qua è il nostro servo iniziale che ci comunica tutto con i fumetti appunto che ci ha aiutato nel tutorial vediamo cosa ha da dirci siamo dei re ci aveva mica portato la corona si grandissimo finalmente reggi aveva la corona ma non il regno hanno hanno dato alle fiamme il villaggio hanno ucciso tutti Dennis era tornato ma coperto di vergogna per affogare il dispiacere si era ubriacato al villaggio così non era riuscito a rispingere le rane né impedire loro di rapire il suo fratello il cuoco quindi sto qui l'ho sconfitto mi stavano incoronando ed ero andato a aspetta che è luto questo e bevo e cosa devo fare non lo ucciderò mica il fratello niente andiamo via no non si può andare via cosa devo fare Reggie doveva raggiungere il villaggio di lunga corda per salvare il fratello e in fretta se fosse riuscito a riparare la bacchecca dei viaggi questa ne avrebbe mostrato la strada più rapida ok proviamo a ripararla abbiamo trovato un martello che è uno di quegli oggetti passivi che ci consentirà di interagire con le varie cose fortezza qua è la fortezza vediamo cosa vuole la fortezza ok martello chiodi perfetto ecco i chiodi li recuperiamo magari già qui si infatti avevo previsto giusto dai si si ma ci penso io ah ok mi ha tolto tutto e lui ci pensa poi alla riparazione perfetto ah figo qui avevamo tutta la mappa della fortezza cremisi e andiamo a villaggio di lunga coda così ci chiariamo anche in viaggio ok non è successo nulla no questo è veramente una cosa imprevista questo gioco mi aveva incuriosito ma provava sempre di pane e di falina integrale appena sfornato ora puzzava solo di pelo bruciato e sangue e di qualcosa di putrido di melma di pantano e delle rane che vi abitavano il clan dei fratelli palude ok voglio dare un'occhiata eh sì sono proprio mappe diverse queste è proprio fighissimo il gioco sembra anche piuttosto ampio perché dobbiamo arrivare alla fine no eh hai ucciso il mio socio eh maledetto no comunque la cosa che so dirvi con certezza è che il gioco deve essere giocato con il pad senza ombra di dubbio non potete appunto rotolare quando lui è in carica quindi a quel punto dovete mettervi già in posizione di contraattacco quindi posizione così e poi date la la botta col mouse bisogna diventare questa strata sì poi non escludo che si riesca a fare tranquillamente anche con la tastiera però bisogna essere un pochino più attenti possiamo mettere via l'arma o equipaggiare io la equipaggio adesso ho una lancia anch'io vediamo un attimo che cosa abbiamo qua recuperiamo delle cose allora vi lascio lunga coda abbiamo le missioni abbiamo gli oggetti i progetti che abbiamo trovato i materiali non possiamo non possiamo qua abbiamo il peso trasportabile le armi la difesa non possiamo però andare a vedere di cambiarci l'arma adesso vi attacco con la vostra stessa arma maledetti ok mamma mia io lo so che siete arrivati fino a questo punto del video e il gioco vi sta piacendo è veramente fatto bene ma bene bene anche a livello tecnicamente si percepisce forse un po' di input lag con la tastiera ma in realtà non è vero è solo questione di abitudine salviamo la partita e qua siamo già arrivati credo no qua serve una chiave che non non abbiamo credo che ci fa entrare in questo posto vediamo un po' abbiamo recuperato uno scudo che prendo subito perché cavoli questo è un bello scudo c'è un'ambientazione anche un po' di grafica che ricorda un po' Darkest Dungeon ci saranno tante boss fight da quello che ho capito dai no no io lo tengo lo scudo finché tu non vai in carica adesso non mi hai fatto niente adesso me l'ha data lui la sberla cerca anche dall'alto ma scusatemi il silenzio ma sono particolarmente concentrato perché il gioco è estremamente brutale se morissi dovrei rifare tutto ok la finire tribula ho messo via la corona devo entrare nella casa lì che è chiusa e serve una chiave e la chiave ce l'hai tu? sì grazie chiave del municipio ottenuto dal capitano delle guardie capitano delle guardie non è proprio ok ci viene detto dove andare apri il diario ok l'ultimo gesto del capitano delle guardie era stato chiudere l'anziano del villaggio nel municipio e sbarare l'ingresso all'orda di rane ma qualcuno era riuscito a passare perfetto poi addio al capitano delle guardie bello cavoli bello bello siamo entrati ok hanno detto il capitano aveva ragione le rane erano all'interno ancora no devo sistemare sta qui prima perché aia la cere dà sempre un po' fastidio aia la cazzanola ok questa è andata dimmi che mi ridai lo sapremo a fine al combattimento devo colpirla al momento giusto ci sono anche i tuoni fuori che spettacolo dai dai che è andata un po' è tosto non mi fido tanto a rotolarli alle spalle non posso fare poi rimango scoperto per un breve istante se lo faccio quando sono fuori tempo invece deve prendersi la carica tipo adesso no adesso luta 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 recuperato delle cose altre cose abbiamo trovato perdiamo un po di difesa quindi questa cosa la mettiamo via qua cos'è che è coperto da ok altri oggetti e qua colai saliamo il piano di sopra no sono io sono io l'anziano del villaggio reggi li aveva trovati l'anziano e robin il ranger che era stato suo ultimo guida guardia al giovane non importare sarebbe ringraziato per il salvataggio voleva solo trovare suo fratello e quindi qui ci dicono dov'è nostro fratello che dovrebbe essere invece da tutt'altra parte perché è all'interno sempre di questa mappa che guardate quanto è ampia mamma mia al villaggio lunga coda il gioco è veramente guardate anche il quello che trema qua dietro dietro la libreria lì a destra il gioco io lo trovo veramente eccezionale è disegnato bene è stata un'autentica sorpresa come dovrebbero essere tutti gli indie non è innovativo no certo però è anche tradotto benissimo in italiano con questo stile un po' con questi ingranaggi un po' anche steampunk se vogliamo un po' dark dungeon combattimenti alla souls un po' metroidvania roguelike di no perché comunque ci sono i salvataggi dove abbiamo salvato in questo momento ragazzi il gioco era questo tales of iron un gioco che trovate su steam in uscita il 17 di settembre veramente fighissimo il prezzo purtroppo non lo so però è senz'altro una delle sorprese di quest'anno fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima e ciao ciao